Musica Messe in sicurezza e ampliamento del porto di Pozzallo, CGL, Cisle e Will si rivolgono al Presidente della Regione. Dove sono finiti i soldi stanziati per l'infrastruttura Iblea? Molestie telefoniche e minacce di morte, 5 denunce a Comiso, fra le persone deferite all'autorità giudiziaria, due ragazzi conoscenti della vittima, una giovane donna vittoriese. Raccolti i fondi per Ginetta, la cagnolina paralitica curata in una clinica di Catania, raggiunta l'obiettivo del parto organizzato nel rifugio sanitario di Ragusa dai volontari della Ida. Sulla vicenda dei finanziamenti destinati al progetto della messa in sicurezza e l'ampliamento del porto di Pozzallo, scendono in campo i sindacati CGL, Cisle e Will con una lettera inviata al Presidente della Regione, oltre che al Prefetto, al Sindaco di Pozzallo e a tutti i deputati regionali, firmata dai segretari generali di CGL, Cisle e Will, Giovanni Avola, Paolo Sanzolo e Giorgio Bandiera, che ricordano che il 18 gennaio scorso il Sindaco del Comune di Pozzallo aveva promosso una conferenza di servizi con la deputazione per definire con la Presidenza della Regione il percorso per sbloccare il progetto e la messa in sicurezza. Il 20 gennaio è partita la richiesta del Sindaco di un incontro urgente con la Presidenza della Regione, a cui è seguito un incontro del 12 febbraio scorso presso il Dipartimento regionale delle Infrastrutture. Poi però tutto si è bloccato. Viene da chiedersi, scrivono i segretari generali di CGL, Cisle e Will, ma l'amministrazione regionale è ancora interessata alla realizzazione dell'opera o si combatte contro i mulini a vento. È un sospetto. I 40 milioni di euro del finanziamento ci sono o sono stati destinati altrove? Visto che non c'è chiarezza, scrivono i sindacati CGL, Cisle e Will, sulla rimodulazione dei 570 mila euro postati nel bilancio regionale in favore del porto di Pozzallo, I segretari generali sottolineano che la diatriba tra regione ed ente appaltante, cioè comune di Pozzallo, deve finire. Il porto è un'opera strategica per la sinergia commerciale col sud-est della Sicilia. Lo sviluppo e la ripresa economico del comprensorio ebreo passano dall'ammardernamento del porto di Pozzallo e l'area eblea non può rinunciare a questa importantissima infrastruttura. Tutto è tornato alla normalità nella discarica di Cava dei Modicani a Ragusa dopo il problema che si è verificato ieri in occasione della protesta di un operaio che è salito su un traliccio proprio per protestare contro un presunto licenziamento. Il traliccio dell'illuminazione era alto 10 metri. L'operaio ha chiesto di parlare con il sindaco di Ragusa. Sul posto è intervenuto il personale dei Vigili del Fuoco che ha posizionato l'autoscala e ha richiesto l'intervento del telo gonfiabile dal comando di Siracusa. Dopo qualche ora è giunto sul posto l'assessore all'ambiente Claudio Conti in rappresentanza del sindaco e del comune e così l'operaio ha deciso di scendere. L'uomo era indolenzito e infreddolito ed è stato portato giù dai Vigili del Fuoco con l'autoscala. Nel pomeriggio la ditta che si occupa dello smaltimento raccolto ai rifiusi ha ripresa a svuotare i cassonetti nella città e ha completato tutto il lavoro. Dopo alcune mesi di indagini la polizia di Stato ha denunciato 5 persone tra cui 4 giovani per aver molestato e minacciato in più occasioni una giovane donna di Vittoria. La ragazza ha presentato una denuncia al commissariato di Comiso perché in alcune circostanze di rientro da serate trascorse fuori casa era stata chiamata più volte alla sua utenza di cellulare anche in ore notturne, insultata pesantemente e in alcune circostanze era stata minacciata anche di morte. In altra occasione la ragazza era stata svegliata mentre era a letto e chi l'aveva chiamata la informava che sapeva che ora si era ritirata dove era stata e che cosa aveva fatto la stessa sera ed è stato questo particolare che ha indotto la ragazza a denunciare infatti la giovane donna prima pensava che si trattasse solo di stupidi scherzi ma poi in lei è subentrata ansia e paura per quello che le stava accadendo le indagini sono scattate e così dal tabulati dei gestori telefonici si è risaliti ad alcuni giovani diversi dei quali sconosciuti alla stessa ragazza in particolare sono state individuate due ragazze SP del 1992 MP del 1990 che erano state conoscenti della vittima e due ragazzi JCC del 91 e FC del 1994 la quinta persona individuata è una donna di Vittoria sconosciuta la ragazza BC del 1948 ex impiegata del comune Parino che ha dichiarata di non essere stata lei ad effettuare le chiamate ma non ha detto agli inquirenti a chi avesse dato il telefono nelle ore notturne è stata denunciata anche lei per molestie telefoniche i primi quattro invece dovranno rispondere oltre che del reato di molestie telefoniche anche di minacce è stato emanato il decreto legislativo che evita la soppressione del giudice di pace a Vittoria a darne notizia la senatrice del Partito Democratico Venera Padua che ha ricevuto comunicazione in proposito dal sottosegretario della giustizia il decreto sarà pubblicato nei prossimi giorni sulla gazzetta ufficiale e dovrebbe consentire di chiudere in maniera positiva questa vicenda nei giorni scorsi le prelemiche sulla presunta soppressione di questo presidio operativo nella città Ipparina è stato soprattutto grazie alla pratica che era stata ineltrata nei tempi corretti del comune di Vittoria in cui tra l'altro è stato espresso l'intendimento di mantenere a proprie spese l'ufficio giudiziario a salvare la situazione l'esito dell'istanza Ipparina ha infatti avuto un iter positivo Obiettivo raggiunto e non solo il Ginetta Sparti che si è celebrato domenica scorsa al rifugio sanitario di Ragusa è servito ad aiutare non soltanto la bella Ginetta la cagnolina Fulva rimasta paralitica a seguito di un incidente stradale ma anche altri cani ospiti del rifugio sanitario di Ragusa domenica sono stati tanti i volontari dell'AIDA l'Associazione Italiana di Diritti Animali ma anche i cittadini che per la prima volta hanno varcato il cancello del rifugio prendendo consapevolezza di questa realtà acquistando dolci, bevande, cappelli, manufatti, limoni o comprando la pubblicazione del Capuccetto Rosso Animalista e così raccogliendo fondi per garantire queste cure Ginetta infatti per tre volte alla settimana viene portata a Catania da Isabella Sgarlata e dal fratello Matteo per le cure specialistiche che dovrebbero ridargli l'uso delle zampe secondo il metodo dell'andatura spinale ma ogni cane del rifugio ha la sua storia è un sogno diverso c'è chi come Shakira sogna di tornare sulla strada ma ancora l'ASP non autorizza il suo ritorno sul territorio o tanti cuccioletti che scodinzolano non appena vedono un bimbo perché cercano solo un amorevole padrone